Il 15 aprile ci sarà un avvenimento importante, ospite l'Alazio e stiamo parlando della disciplina del calciotto. Ma tra poco ascolteremo il presidente della società leader del nostro territorio. Presidente Baldi, allora un evento importante il 15 aprile di sabato ovviamente. E che cosa consiste? Soprattutto questo calciotto che sta piano piano prendendo piede. Abbiamo finalmente terminato il campionato di calciotto qui da Arco Verde con la Lega B7. E abbiamo organizzato e creato questo nuovo trofeo che si chiama Tirrenia Cup. Dove andremo ogni anno a invitare delle realtà sportive a livello nazionale del calciotto. E quest'anno ci sarà la Lazio che verrà sabato 15 alle ore 16.30 la prima partita. Che giocherà la nostra prima squadra contro la loro. E poi alle 17.30 giocherà l'over 35 contro la loro over 35. E poi ci saranno le prime azioni e il terzo tempo direttamente con i quattro gruppi. Ecco, ma il calciotto è uno sport nuovo, relativamente nuovo. Sta prendendo piede. E in che maniera cercherete di pubblicizzarlo maggiormente e di renderlo più a misura di duomo di calciatore? Sì, è una disciplina che sta prendendo piede negli ultimi anni. Questo anche grazie all'input che ci stanno dando da Roma, grazie a queste società come la Lazio, la Roma, la squadra di Totti. E qui stiamo cercando un po' di emulare quello che fanno lì. Noi a settembre qui faremo la Serie A, la Serie B. Quindi ci saranno delle competizioni all'avanguardia per il calciotto. E ovviamente è uno sport aperto a tutti, quindi si può giocare il giovane, un po' quello più anzianotto. Però è una disciplina che sta prendendo sempre più piede. E niente, noi qui giochiamo a una struttura. Poi ovviamente qui quello che manca un po' sono le strutture. Perché il calcio... Diciamo il nome della società. Noi siamo la SD Avengers. Quindi stavo dicendo, la struttura, sono un po' quello che manca, sono le strutture. Però qui abbiamo trovato una struttura all'avanguardia. Penso che molti stanno vedendo quello che sta facendo il titolare, il proprietario di questa struttura. Adesso penso che l'anno prossimo sarà pronto anche un secondo campo qui. E diciamo che si sta ampliando bene e ci sta dando l'opportunità di dare un input maggiore per questa disciplina che è il calciotto. Oscar Pastorino, allora lei si interessa della comunicazione, soprattutto la pubblicizzazione di questa struttura. In che maniera avviene? Sì, allora noi ci occupiamo della comunicazione per quanto riguarda Arco Verde. Lo facciamo sui loro canali social, quindi su Facebook, social, su Instagram. Cerchiamo di mettere in risalto la bella realtà che è Arco Verde, che è una bellissima realtà nuova qui a Battivaglia. Ecco, che cosa vi prefiggete tramite questa struttura? Sicuramente il nostro obiettivo principale è quello lì di poter permettere a chi ne usufruisce, di poter godere dell'aggregazione, quindi di potersi divertire su una struttura di ultima generazione. Quindi di avere tutti i comfort, di potersi, appunto, come dicevo, divertire insieme ai compagni settimanali. Quindi un grande lavoro sociale soprattutto. Sì, esatto. Qui parliamo molto di aggregazione, parliamo di divertimento tra ragazzi, anche di persone adulte che vengono qui a divertirsi. E appunto li ringraziamo perché hanno scelto la nostra struttura, la struttura di Gerardo Dele. Grazie a tutti.